Il coro di voci bianche, voci in musica dell'Istituto di Andorno, ha effettuato una trasferta in Francia per uno scambio culturale con il coro Etienne Jeanne La Passa. Il coro di voci bianche, voci in musica dell'Istituto comprensivo di Andorno Micca, ha effettuato una trasferta in Francia a Romain Suiser per uno scambio culturale con il coro del college Etienne Jeanne La Passa. I 37 giovani cantori di età compresa tra gli 8 e i 15 anni e i loro insegnanti hanno ricevuto una calorosa accoglienza al college e sono stati ospitati dalle famiglie dei loro corrispondenti francesi. Sabato è giunto in città anche il coro dei genitori di Irvaler Scheier e sabato sera i tre cori hanno tenuto uno splendido concerto alla Salje Villar de Romain.